Con il capitolo 31esimo dei Promessi Sposi, Manzoni intende proporre al lettore una ricostruzione di un evento drammatico che interessò il milanese a partire dall'autunno del 1629, lo scoppio della pestilenza. Per noi, ahimè, argomento tristemente attuale, ma per Manzoni è il pretesto per approfondire un aspetto, una vicenda, un fatto storico del tempo che sicuramente interferì anche con le vicende dei due protagonisti. Quello che è importante sottolineare è che si tratta di una ricostruzione che Manzoni conduce sulla base di fonti che egli ha consultato, quindi di documenti che egli ha studiato, confrontato con l'intento specifico di riportare tutto alla verità. In altre parole, ha applicato, si è applicato con scrupolo, con metodo, per arrivare ad accertare i fatti, per mettere in luce rispetto al dramma vissuto dalle persone dell'epoca della pestilenza, quelle che erano le criticità, ma anche, per dirla meglio, le responsabilità. Più in generale non solo tratta della vicenda in sé, ma da risalto a quelli che sono stati i comportamenti degli uomini. E il quadro, purtroppo, non è un quadro limpido, perché le critiche sono rivolte tanto alle autorità, che sono tacciate di essere irresponsabili, di nicchiare, di non saper prendere i provvedimenti opportuni, nei tempi opportuni, ma anche le critiche piovono sul popolo, sul popolo che è descritto nella sua ignoranza, che cade in preda alle superstizioni, quindi alle credenze. In generale, un atteggiamento dunque o irresponsabile o irrazionale. Quello che emerge, che balza agli occhi evidente, è lo stravolgimento della morale. Il narratore, a un certo punto, parla di celebre delirio, cioè un delirio diffuso, dilagante, che interessa a tutti. E questo è un atteggiamento sul quale si sofferma il narratore, perché Manzoni, in definitiva, vuol far riflettere i suoi lettori, vuol farli passare sicuramente per ciò che è interessante, che può essere coinvolgente, perché si può rapportare la propria esperienza al proprio modo di stare al mondo, ma soprattutto si rapporta a quello che deve essere l'utile. Per Manzoni già lo sappiamo, la letteratura che deve avere il vero per soggetto, l'interessante per mezzo e l'utile per il scopo, la letteratura alla fine deve dare un insegnamento, che qui arriva di fatto alla fine, perché dopo la descrizione di tante storture, aberrazioni, di opinioni infondate, di gesti insensati, alla fine Manzoni scrive, alla fine del capitolo, bisogna osservare, ascoltare, bisogna paragonare, pensare e poi appena parlare. Questo perché? Perché Manzoni ravvisa come più spesso invece le persone siano portate a parlare, perché è la cosa più facile, ma forse per questo bisogna proprio avere una forma di compassione nei confronti di tutti gli uomini. Quindi un capitolo in cui Manzoni è molto critico nei confronti dei comportamenti degli uomini si conclude proprio con questa nota di compassione, questa volontà comunque di capire, di indulgere su quelli che sono gli errori, di soprassedere sugli errori degli uomini. Manzoni dichiara subito che si occuperà della peste che ha interessato il milanese, o meglio Milano, circoscrive l'argomento della sua ricerca e anche della sua descrizione, perché è proprio su Milano che si concentrano le testimonianze del tempo e gli parla di memorie. E il fine al quale vuole pervenire è quello di far conoscere quello che viene descritto un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. E poi capiremo perché più famoso, perché lo spiega anzi subito dopo, facendo il punto sui documenti che gli ha consultato, si è imbattuto in una serie di documentazioni, di fonti che risultano disordinate. Ovunque ha riscontrato omissioni, ha ritrovato degli errori, ha ritrovato ancora una confusione di tempi e di cose. E quel che è interessante è che il suo lavoro sicuramente è meritevole perché nessuno scrittore prima di lui si è preso la briga di ordinare una così abbondante messe di dati. Fondamentalmente il suo metodo lo ha portato ad una verifica di quanto risultava scritto nelle fonti, a dare ordine ad una messe di dati che altrimenti restava assolutamente priva di una linearità e poi soprattutto ha dato risalto l'idea della concatenazione, cioè mettendo i fatti in riga, in successione, in modo tale da stabilire i rapporti di causa-effetto. Dopo questa doverosa premessa si parte con la descrizione dei primi casi che scoppiarono nel milanese ai confini con il Bergamasco e viene citata a questo proposito la peste di San Carlo che è stata nominata così dal nome del cardinale Borromeo che fu tra coloro che più si prodigarono nei soccorsi a coloro che purtroppo nel 1576 furono coinvolti in questo evento drammatico e addirittura questo permette di apurare come a riconoscere i segni della pestilenza furono proprio coloro che si erano già imbattuti in essa molti anni prima e questo permette di mettere subito in gioco il protofisico, di far entrare in scena il protofisico, cioè uno dei primi medici di Milano, Lodovico Settala, il quale all'epoca dei nostri fatti ormai era ottoagenario, aveva più di 80 anni e che si era imbattuto subito in un caso, aveva anzi informato il Tribunale della Sanità che è l'istituto che presiede a tutto ciò che riguarda la salute pubblica e di cui sentiremo parlare più spesso nel capitolo, ebbene questo medico aveva informato il Tribunale della Sanità dei primi casi che erano scoppiati dandoli per certi perché aveva informato che nella terra di chiuso era scoppiato indubitabilmente il contagio e Manzoni registra che nonostante questa autorevole segnalazione scrive non fu per questo presa per una risoluzione. Poi ci informa anche che furono inviati in conseguenza di alcune notizie arrivate da Lecco e da Bellano, furono inviati un commissario, un medico, ma fu un vecchio ed ignorante barbiero di Bellano che li rassicurò. La testimonianza di un barbiere bastò perché costoro, questi due che erano stati inviati a raccogliere informazioni, si mettessero il cuore in pace e così appunto fece il Tribunale. Furono quindi inviati altri due delegati e uno dei due è il Tadino. Ora consideriamo che Ripamonti e Tadino sono le due fonti più autorevoli che ha seguito Manzoni in questa sua ricostruzione. Si inoltrano nei territori in cui erano stati inviati ma trovano un paesaggio davvero desolante, paesi chiusi da cancelli all'ingresso, paesi abbandonati, gli abitanti che erano scappati e si erano attendati nelle campagne, si informano dei numeri dei morti che è spaventevole e ovunque trovano le brutte e terribili marche della pestilenza. Informano quindi il Tribunale della Sanità e qui c'è un primo intervento. Che cosa fa? Il Tribunale della Sanità prescrive le bullette. Le bullette non voglio dire che fossero come i nostri attuali Green Pass ma erano dei documenti che attestavano che chi arrivasse in città non proveniva da un paese affetto da contagio. E questo è uno dei primi provvedimenti. Tutti i provvedimenti da parte dell'autorità nel corso del capitolo risulteranno sempre inefficaci e troppo deboli di fronte al dilagare inevitabile della pestilenza. Il governatore fu assolutamente superficiale rispetto alle informazioni che gli vennero riportate perché il suo interesse è fondamentalmente verte sulla conduzione della guerra del casale e questa con frase latina viene ribadito e la sua preoccupazione maggiore. Non solo, in occasione della nascita del primogenito del re Filippo IV emanò una grida con cui ordinava pubbliche feste e quindi favorende in questo modo la diffusione del male. Manzoni ne riporta il nome e Ambrogio Spinola, il successore del don Gonzalo de Cordova che nel capitolo dodicesimo veniva descritto anche lui ingolfato fin sopra i capelli nelle faccende della guerra, si dice che era stato messo incidentemente a governare, vuol dire incidentalmente, vuol dire che per caso doveva governare o meglio l'attività del governo non rappresentava la sua priorità e Manzoni ricorda incidentemente, vuol dire incidentalmente per inciso che proprio in quella guerra che gli stava a cuore trovò la morte. D'altra parte anche per la popolazione ci sono delle parole negative. La popolazione era già stata provata dalle difficoltà dell'epoca, dalla penuria dell'anno precedente, dalle angherie della soldatesca, dalle afflizioni dell'animo, per cui a un certo punto la pestilenza colpì delle persone che erano già con il morale basso e chi ne parlava anzi veniva sempre accolto con beffe incredule oppure con disprezzo iracondo. Manzoni utilizza due parole forti, parla di cecità e fissazione. Queste sono due parole che possono sicuramente caratterizzare l'atteggiamento di tutte le persone coinvolte in questo capitolo, con eccezione, come vedremo, dei capuccini. Un'altra eccezione, sempre nell'ambito della chiesa, è rappresentata dal cardinal Federigo, il quale inviò una lettera pastorale ai parroci e sollecitò delle misure precauzionali, dei provvedimenti che in un certo senso potessero contenere il rischio del contagio. E per il Tribunale della Sanità le cose non si mettono certamente bene. Dice Manzoni che chiedeva, implorava cooperazione, ma otteneva poco o niente e nel Tribunale stesso la premura era ben lontana da uguagliare l'urgenza. Per contro le due figure di medici che continuamente sollecitavano gli interventi. Naturalmente sono Tadino e il Settala. Il narratore si sofferma sulla lentezza dei provvedimenti. La grida per le bullette fu decisa il 30 ottobre e di fatto fu pubblicata il 29 novembre, quando ormai la peste era già entrata a Milano. Alcuni paragrafi successivi sono poi dedicati allo sforzo compiuto dagli autori dell'epoca, dalle fonti di Manzoni, di identificare chi sia stato il primo a introdurre la pestilenza. E allora si parla di un soldato italiano al servizio del re di Spagna, si cerca di identificarne il nome, di precisare il giorno in cui egli sarebbe entrato a Milano, ma in realtà non c'è alcuna coincidenza tra le fonti. Ci si sofferma quindi sulla vicenda di questo fante, di questo soldato che trovò la morte, e sul modo in cui si diffuse dunque il contagio, anche se si ravvisa ancora una certa lentezza. Ed inoltre la scarsità dei casi attestati portava le persone a considerare che di fatto, ma si tratta di una stupida e micidiale fiducia, la peste non ci fosse. In questo, in questo atteggiamento che è fatto di ignoranza e di pregiudizi, vengono accomunati sia molti medici che il popolo, i quali deridevano gli auguri sinistri, le previsioni funeste, i segni del male non venivano accolti e venivano anzi derisi coloro che ne parlava. Non solo, ma anche i provvedimenti che erano presi in via precauzionale trovavano sempre l'ostilità di tutti, indistintamente. Citando il tadino, Manzoni sottolinea come il pubblico, intendendo la nobiltà, i mercanti e la plebe, era comunque persuaso che si trattasse di vessazioni senza motivo e senza costrutto. Si arriva addirittura, pur di sfuggire al rischio dell'isolamento o al rischio di finire segregati nei lazaretti, a corrompere becchini e sovrintendenti e si parla addirittura del rilascio di falsi attestati dietro pagamento di denaro. E c'è un paradosso. Il paradosso è che i medici invece che denunciavano a chiare lettere che avevano visto bene quale fosse il problema, il suddetto tadino e poi il senatore settala che è il figlio del protofisico, coloro che sarebbero di fatto stati gli aiutanti del popolo, in realtà erano coloro su cui cadeva l'odio principale. La citazione latina non lascia dubbi. Pro patrie ostibus, dice il ripamonti, a dire che erano considerati alla stregua di nemici della patria. L'odio non risparmia nemmeno altri medici, quelli che suggerivano precauzioni, che cercavano di comunicare la loro dolorosa certezza. Essi vengono tacciati, se va bene, di credulità e ostinazione, ma i peggiori pensavano che essi agissero semplicemente per far bottega sul pubblico spavento, cioè si insinua persino il dubbio che agissero per interesse, per tornaconto personale. Ed è interessante l'esperienza che Manzoni riporta del protofisico Lodovico Settala, uomo di scienza e professore di medicina all'università di Pavia, poi di filosofia morale a Milano, un uomo autorevole ma anche un uomo di gran carità nel curare e nel recare beneficio ai poveri. Tuttavia una nota negativa a suo carico è il fatto che Manzoni registri come egli partecipasse dei pregiudizi più comuni e più funesti, i pregiudizi che nutrivano l'immaginario e le opinioni del popolo. Quanto sta che sull'esperienza di Settala, Manzoni si sofferma su un aneddoto in particolare, quando mentre andava a visitare dei malati si trovò ad essere aggredito verbalmente da un gruppo di persone che lo ritenevano il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste. D'altra parte questo gli toccò per aver veduto chiaro, per aver detto ciò che era e voluto salvar dalla peste molte migliaia di persone. Quello stesso popolo gli attribuì in un secondo momento nuova lode di sapiente quando egli si trovò a condannare a morte una giovane accusata di essere una strega. E il narratore Chiosa dicendo intollerabile a pensare esprimendo così il suo sdegno morale. Alla fine di marzo la peste ormai dilaga e quei medici che si erano dimostrati scettici, che si erano opposti all'opinione del contagio, siccome non volevano confessare ciò che avevano deriso, in altre parole volevano salvare la faccia e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, iniziarono a parlare di febbri maligne, di febbri pestilenti, ma Manzoni parla di una miserabile transazione, anzi parla di trufferia di parole, che è una bellissima espressione che racchiude proprio il senso di quello che Manzoni intende esprimere. Le parole che anziché riconoscere la verità non lasciano credere ciò che era più importante di credere, di vedere che il male si attaccava per mezzo del contatto. Anche a livello istituzionale la situazione è drammatica perché c'è un gioco di rimpallo, di rimbalzo, di responsabilità. Abbiamo il Tribunale della Sanità che sollecita interventi, che chiede denari, li chiede ai decurioni, e abbiamo tutto in elenco, i decurioni, il gran cancelliere, il governatore, il senato, vengono introdotte nuove imposte, ma di fatto non si riesce a supplire se non a una parte del bisogno. Ed intanto nel lazzaretto cresce il numero di coloro che vengono ospitati e diventa anche lì una situazione ingestibile, una situazione di disordine per cui si ricorse all'ordine dei cappuccini perché essi provvedessero all'organizzazione all'interno del lazzaretto. E il 30 marzo, quando padre Casati prende in mano la situazione, via via accorsero altri cappuccini che ebbero le mansioni più varie, l'elenca Manzoni, sovrintendenti, confessori, amministratori, infermieri, cucinieri, guardarobi, lavandai e anche viene descritto nel suo inesorabile correre, nelle sue corse continue, il padre Casati che animava e regolava ogni cosa. Manzoni a questo punto si sofferma a considerare come si tratti di una dittatura un po' particolare questa, cioè l'affidare l'incarico ai cappuccini, a degli uomini di chiesa per governare una situazione che avrebbero dovuto le istituzioni regolamentare naturalmente è un saggio di quella che possiamo definire una società molto rozza e mal regolata, quindi sottolinea la mancanza di responsabilità da parte dell'istituzione. Ad altra parte c'è anche posto per elogiare il servizio dei cappuccini che era un servizio reso da uomini a uomini senza alcuna prospettiva di ricompensa e proprio per questo Manzoni intende elogiarne e tramandarne il ricordo. E le cifre sono davvero alte perché il Ripamonti registra la presenza di 50.000 persone all'interno del lazzaretto nei sette mesi in cui operò il padre felice. La pesto ormai è sotto gli occhi di tutti e viene anche meno quella caparbietà di negarne l'esistenza. Il morbo si diffondeva, coinvolge anche le persone più conosciute, si fa riferimento al caso di Settala, lui e uno dei suoi figlioli furono gli unici che si salvarono nella sua famiglia in cui invece tutti caddero proprio per effetto della pestilenza e si fa riferimento anche al timore che incominciò ad interessare la plebe. Nell'ultima parte del capitolo Manzoni si sofferma a trattare degli untori, vale a dire proprio per effetto del pregiudizio del popolo si riteneva di poter identificare coloro che contribuissero alla diffusione della pestilenza. questi erano gli untori. Naturalmente non c'è nessun fondamento razionale in una situazione del genere ma in un certo senso di fronte alla situazione di crisi in atto, di fronte al propagarsi della pestilenza era diffusa la volontà di trovare un'altra causa e qui naturalmente sfioriamo la superstizione perché si fa riferimento a ciò che era diffuso in Italia ma anche in Europa, arti benefiche, operazioni diaboliche, il pensiero che delle persone congiurate spargessero la peste per mezzo di veleni contagiosi e di malie. E dopo aver citato il caso di quattro francesi che erano ricercati in quanto sospettati di spargere unguenti velenosi e pestiferi Manzoni passa la trattazione di due fatti che vengono presentati l'uno di cieca e indisciplinata paura e l'altro di non so quale cattività. Il primo caso riguarda un assito all'interno dell'uomo di Milano un divisorio che serviva a separare gli spazi assegnati agli uomini e quelli alle donne venne unto pare di vedere che alcune persone lo ungessero. Di conseguenza che cosa si fece? Si pensò bene di portare fuori dalla chiesa l'assito e una quantità di panche rinchiuse in quello. Ma la vista di tutte queste panche accatastate erano state messe fuori dal duomo per pulirle fece una grande impressione di spavento nella moltitudine. La formulazione rende conto della preoccupazione dilagante. Si disse e si credette generalmente che fossero state unte in duomo tutte le panche, le pareti e fin le corde delle campane e non soltanto si disse ma tutte le memorie dell'epoca ne parlano con ugual certezza. Quindi un fatto che in realtà non corrisponde a verità per effetto della voce del popolo viene considerato come acclarato, come veritiero. Non solo. Nella mattina seguente si verificò uno spettacolo più strano e più significante. Che cosa era successo? Le porte delle case e le muraglie per lunghissimi tratti furono ritrovate intrise di non so che sudiceria giallognola biancastra, sparsavi come con delle spugne. Quindi erano state imbrattate le porte e le mura. Non si può dire se si trattasse di un gusto sciocco oppure di un reo disegno ma naturalmente questo contribuì a far crescere la diffidenza. Il ripamonti deride espressamente la credulità popolare e anche il tribunale della statunità non diede peso a questo episodio. Le altre memorie contemporanee che ne parlano ricordano che era opinione comune che il fatto fosse dovuto ad un gesto scherzoso per bizzarria. Insomma tutto concorre a delineare un quadro di grande confusione, di incertezza, di pregiudizi, un quadro per il quale l'espressione celebre delirio che Manzoni impiega a questo punto del capitolo sembra del tutto giustificata. Il celebre delirio è proprio legato a come le apparenze abbiano la possibilità di diffondersi e come entrino in fondo nella mente delle persone e alla fine anche le dominino. La città a questo punto è sotto sopra, si prendono provvedimenti, i padroni delle case bruciano gli spazi che sono stati unti, i forestieri però sono coloro che hanno la peggio, vengono spesso visti con sospetto, vengono interrogati, arrestati ma per fortuna vengono rilasciati se non si trovano prove a loro carico. Il tribunale della sanità addirittura arrivò a pubblicare una grida con la quale prometteva premi e impunità a chi mettesse in chiaro l'autore o gli autori del fatto. Si insiste in questa caccia alle streghe, potremmo proprio utilizzare questa espressione per intenderci ed è il significativo che un provvedimento del genere, l'invito alla delazione, non sia altro che un modo per assecondare quella che è definita la preoccupazione furiosa nel popolo e quindi è un atto di condiscendenza delle istituzioni che però Manzoni ravvisa poteva essere davvero pericolosa. Vengono indicati vari casi di coloro che sono ritenuti responsabili di queste unzioni, ci sono nomi di spicco, Don Gonzalo de Cordova, l'ex governatore, il cardinale di Richelieu, insomma si grida al complotto. E nell'ultima parte del capitolo Manzoni ricorda come alcune persone, nonostante la situazione in atto di disfacimento, di morti, di contagi diffusi, non credessero ancora che la peste ci fosse. E per levare ogni dubbio, per rendere evidente le prove del contagio e dei rischi in atto, il Tribunale della Sanità prese un provvedimento che vale la pena ricordare. In una delle feste di Pentecoste, festa naturalmente festività che vedeva il coinvolgimento di molte persone, il che naturalmente era fuori luogo rispetto all'emergenza in atto, il Tribunale della Sanità ricorse a qualcosa di moderno, la spettacolarizzazione della morte, fece in modo che attraverso le persone confluite, le persone che erano, si erano riunite per le festività, passasse un carro con sopra i cadaveri di una famiglia, i cadaveri ignudi di una famiglia che era stata, che aveva trovato la morte proprio per la pestilenza. La peste fu più creduta, ma al contempo Manzoni registra che quella riunione medesima non dov'è servire poco a propagarla. Fu un concorso, fu un affollamento di persone che dovette contribuire al contagio. E si conclude con una noticina lessicale di non poco peso. Manzoni insiste sul fatto che all'inizio si negasse che si trattasse di peste, si fece quindi ricorso ad espressioni che potessero essere febbri pestilenziali, oppure a dire che non era tuttavia vera peste, poi peste sì, ma in un certo senso, e poi finalmente si parla di peste senza dubbio. Però ci si mette a fianco anche l'idea del beneficio e del malefizio, cioè l'idea che la peste avvenisse per effetto di un avvelenamento oppure di un sortilegio. Insomma, si chiude un capitolo impegnativo in cui Manzoni ha messo a nudo le responsabilità e i pregiudizi degli uomini con la considerazione da cui siamo partiti, ricordata già all'inizio. Tutto questo deve davvero servire a farci riflettere come le parole in realtà spesso giochino contro se prima di parlare non abbiamo osservato, ascoltato, paragonato e pensato. La compassione per gli uomini è espressa alla fine, gli uomini sono in fondo da compatire perché parlare risulta per loro la cosa più semplice.